Abbiamo chiesto alla politica, abbassaci un pochino le tasse, mettere il tetto al contante, discutiamo sul blocco navale che non è mai arrivato, sul MES, noi non abbiamo preso 38 miliardi di euro di MES sanitario che servivano per mettere in posto il sanitario e stiamo perdendo le funzioni principali dello Stato, che sono la sanità, la cura e l'istruzione. Dunque, perché abbiamo approggiato Alessio D'Amato? Perché ha fatto una buona campagna vaccinale. Anzi, ha fatto la migliore campagna vaccinale in Italia in termini di velocità delle vaccinazioni, predisposizione delle strutture di vaccinazione. E guardate, questo è un paese che da 30 anni discute esclusivamente se uno è di destra o di sinistra e da 30 anni declina costantemente. Perché il nostro problema è il rumore, di quello che uno si dice, persino sulla cattura di Messina Denaro riusciamo a discutere. Ma l'incapacità di realizzare, io vengo dalle aziende, la Ferrari, Sky, il TV, sono arrivato alla politica per la sensazione pressante che avevo che non ci fosse un'esperienza nella politica semplice che è quella di far accadere le cose, ovvero di gestire e amministrare. E dunque il nostro criterio per appoggiare una persona alle regionali è, ha dimostrato di saper gestire e amministrare? Sì. È una persona, per bene onesta, sì. È una persona capace di incarnare ovviamente i valori di fondo, che sono, siamo europeisti, nessuno vuole più uscire dall'euro, cioè gli ameloni, Salvini e il Movimento 5 Stelle vogliono tutti uscire dall'euro prima di arrivare a poter far uscire l'Italia dall'euro a cui punto hanno cambiato tutti i dati. È una persona democratica nel senso moderno del termine, fine. A me interessa se è bravo a me. Grazie. 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 Grazie.